Camminate è paesino dimenticato. Dimenticato perché ci sono mille problemi, ma oggi vogliamo parlare della strada e della sicurezza. I residenti della piccola frazione di Camminate nel comune di Fano si sono riuniti questa mattina per elencare una serie di problemi che riguardano questa località che sorge nelle colline e in aperta campagna. Primo di tutti, come ormai possiamo immaginare, sono lo stato delle strade tra buche pericolose, avvallamenti e asfalto ammalorato. La strada è 19 anni che non viene fatto più un asfalto, né i segni per la strada, né i guardraio, non c'è né i segni né verticali né orizzontali, tra i quali arrivo alle Camminate c'era una freccia e quella è caduta per terra, non so, nemmeno si c'è più. Poi andiamo nelle strade un po' fuori e non è impraticabile, proprio impraticabile. Prima deve succedere quello che non deve succedere, poi dopo magari intervenite. L'abbiamo segnalato volta, sotto volta e purtroppo è dimenticato. Inoltre i residenti suggeriscono all'amministrazione comunale alcune migliorie al centro del paesino. Qui dove siamo adesso c'è un bar, una chiesa, un campo sportivo. Alla sera è pieno di gente. La velocità delle macchine è impossibile a fermarli perché manano forte. In parcheggi la gente che arriva, siccome non sanno che non c'è nessun cartello che dici in fondo c'è un parcheggio, magari non con i segni per terra, ma è un pezzo, laggiù è vuoto e la strada è piena. Praticamente il pericolo c'è. Un'altra criticità è la forte velocità delle auto. In questo punto invece quali sono i problemi che avete evidenziato? Questo tratto di strada qui, dove alle volte noi facciamo delle passeggiate, passiamo a rasenta la Madonina, vengono sulle macchine molto forti, quasi a rasentarlo la piccola pieve. E quindi sarebbe da metterci dei cordoli gialli per insomma distanziare un po' il camminamento. In più lì vengono giù molto forte, è da mettere almeno un cartello 20 all'ora a rallentare perché qui attraversano i bambini, via di conseguenza in centro abitato, quindi va un rallentamento. Infine, visto l'aumentare dei residenti negli ultimi anni in questa frazione, le famiglie chiedono una pista polivalente o un'area giochi per bambini nel campetto davanti alla chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Il percorso da qui fino alla tombaccia di quelle grandi querce che quasi ti avvolgono sopra, che sono molti, sono branconi secchi, sono pericolosissimi. Per il resto anche la segnaletica, quanto c'è la debbia, non sappiamo se ritrovarsi in un campo agricolo o nella strada, perché non ci sono né catari frangenti, né la segnaletica alle strisce bianche intorno, di qua di là, queste cose già il Comune le sa e vedremo un po' se si riesce a combinare qualcosa.